Siamo nel comune di Ciro, da qui a breve si terranno le elezioni amministrative, le elezioni comunali. Il sindaco si ripresenta a questa battaglia elettorale, lei dice chiaramente di anni positivi, possiamo dire, per la cittadina di Ciro. Ecco, sindaco, avete intenzione di ritornare e di continuare quello che è stato fatto fino adesso? Ma io credo che un sindaco quando amministra ha la necessità di costruire, ha la necessità di programmare, poi negli anni successivi vede il frutto del suo lavoro, del lavoro di una squadra, del lavoro di un'amministrazione comunale intera. Quindi io credo che sia da parte mia giusto e doveroso ripresentare la mia disponibilità, perché ho creduto in questo paese, ho creduto in questa squadra e ho creduto nella costruzione di un paese diverso e futuro per tutti i nostri figli. E da questo punto di vista, come dire, c'è stata una grande forza morale, perché i nostri piccoli paesi si amministrano con il cuore, si amministrano con lo stare a contatto con la gente quotidianamente, ma anche risolvere i problemi della quotidianità, così come risolvere i problemi grossi, diciamo, i grossi investimenti. E Ciro, come non mai, diciamo, in questi anni ha fatto sì che i grossi investimenti siano stati, diciamo, all'attenzione di una giunta comunale, di un'amministrazione comunale tutta, per riuscire a risolvere i problemi più atavici. Noi abbiamo grossi problemi sul dissesto geologico e ci abbiamo lavorato fino allo spasmo, perché, devo dire, anche oggi che si parla, diciamo, di grossi investimenti sul dissesto geologico, Ciro ha avuto finanziamenti per quasi 4 milioni di euro e, scusate se sono pochi, in un periodo in cui, diciamo, le alluvioni l'hanno fatto da padrone, le frane storiche che ci sono state nel nostro territorio negli anni scorsi, abbiamo messo tutto in cantiere. Certo, non tutto è potuto iniziare, perché, come dire, alcuni lavori sono iniziati, come il famoso costone alla Punta Vecchia, che risolverà in modo definitivo per un milione e mezzo di euro, come risolverà in modo definitivo l'area del centro storico, sotto, diciamo, il cuore pulsante del centro storico di Ciro, che si chiama, diciamo, zona San Nicodemo, e, ovviamente, gli altri finanziamenti che sono stati messi in cantiere, in zona Renacchio, sotto il cimitero comunale, in zona Falcone, sono tutti finanziamenti usciti dalla mano, dalla mente e dalla forza morale di questa amministrazione. Ecco, Ciro è una cittadina che si basa soprattutto l'economia sull'agricoltura, sulla viticoltura, penso che anche in questo settore avete proposto delle idee. Allora, diciamo che sull'agricoltura è stato un light move, cioè quello di volere a tutti i costi riuscire innanzitutto a creare le condizioni migliori per che gli agricoltori risolvessero il loro problema tavico. Cioè, il loro problema tavico qual è? Il trasferimento nelle proprietà agricole, quindi, diciamo, la viabilità rurale. Su questa viabilità rurale noi abbiamo investito davvero tante risorse, diciamo, anche mentali, oltre che tecniche. E il frutto lo si vede in questi giorni. Sono in gara d'appalto 300 mila euro di finanziamento per quanto riguarda 13 strade interpoderali o comunali, che dir si voglia, che sono al servizio dei viticoltori, ma a servizio anche degli agricoltori in genere, e ci sono altri 120 mila euro di finanziamento che stiamo aspettando di firmare la Convenzione, dalla misura 431, che sono destinati esclusivamente alla strada del Vallo, che è la strada principale, l'arteria principale per i viticoltori. Questo lo dice a lunga su, diciamo, l'interesse che abbiamo dedicato a questa cosa. Io l'ho chiamato qualche tempo fa il piano Marshall delle strade interpoderali di Ciro, perché abbiamo recepito il messaggio degli agricoltori e l'abbiamo messo poi su carta, in pratica, con la progettualità. L'altra strategia qual era? Quella di far sì che, diciamo, le aziende avessero un punto di riferimento. Anche su questo ci abbiamo lavorato. L'opificio ex Giara o Contea del Ciro sarà il centro nervalgico nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con un finanziamento ad hoc del PNRR insieme ai comuni di Ciro Marina, Melissa e Crugoli. Questa è un'altra strategia importante che abbiamo costruito, ovviamente con i colleghi vicini di Ciro Marina, di Melissa e di Crugoli, proprio per raggiungere l'obiettivo. Quella struttura deve essere ridata agli agricoltori, deve essere ridata per le attività produttive, non solo vitivinicole, ma anche olivicole. Noi abbiamo questa vocazione importante e la dobbiamo sfruttare a tutti i costi. A mia memoria si potrebbe parlare ancora di tanto la ristrutturazione programmata del castello, il museo, si potrebbe parlare del brand di Lilio, ormai mi piace definirlo un brand, la storia di Lilio. Si potrebbe parlare ancora dell'enoteca regionale, quindi tante cose sono state messe in cantiere. Diciamo che c'è stata tanta carne al fuoco, perché poi qualcuno dimentica che in tutti questi cinque anni ci sono stati due anni e mezzo di pandemia e quindi probabilmente ci dimentichiamo anche quale sono state le iniziative e anche gli sviluppi di questo territorio. Noi abbiamo puntato molto sui cosiddetti marcatori identitari, quelli che la Regione Calabria ha indicato in Lilio, uno dei marcatori identitari. Ma noi abbiamo un marcatore identitario per eccellenza dal punto di vista enogastronomico che non possiamo dimenticare, che è il vino. E su quello abbiamo costruito un'immagine, perché Ciro deve far vedere le cose positive, cioè le bellezze che ha, non quelle negative. Noi non ci teniamo alle cose negative, noi teniamo soltanto alle cose positive e alla grande speranza che Ciro possa risolvarsi con il vino, con la cultura e con l'unogastronomia. Sul vino abbiamo fatto una strategia ad hoc, cioè quella di creare degli eventi e delle manifestazioni che promuovessero il vino nella sua interezza, anche dal punto di vista culturale, perché ormai quando si vende una bottiglia di vino non si vende il vino in quanto tale, ma si vende un brand, si vende la cultura di quel territorio. E quindi su questo abbiamo costruito e abbiamo investito. L'Enoteca regionale ormai è cosa fatta? Lunedì riprendono il lavoro di completamento di quella che era l'Enoteca regionale storica, perché Ciro è sede storica dell'Enoteca regionale, completeremo questo intervento con un investimento importante da parte della Regione Calabria di circa 30.000 euro. E questo sarà per noi poi il futuro per la costruzione di un flusso turistico legato al vino e legato alla cultura. L'Ilio sarà il grande poi marcatore identitario su questa cosa. Ma noi punteremo anche su altre caratteristiche, perché noi non possiamo dimenticare che abbiamo un'essenza importante, unica e rara nel nostro territorio, che è la ginestra bianca. Anche su questo abbiamo lavorato. Cioè non è vero che non è stato fatto nulla e questo lo rimetto al mittente qualche battuta fuori luogo, perché sulla ginestra bianca abbiamo investito insieme al Consorzio di Bonifica Ionico-Clatonese un investimento minimo, ma di 60.000 euro per la bonifica imparziale del sito e la creazione di nuova pannellatura in zona con muretti a secco. Abbiamo fatto insieme al Consorzio di Bonifica questo grande investimento e ci abbiamo lavorato e adesso i lavori sono quasi completati. Anche su questo, creando un sito internet ad hoc, si è strategicamente creato le condizioni per fare domani lì un parco della biodiversità. Quindi mi sembra di capire, avete presentato la lista, perché questo rappresenta per voi una continuità, non vuole portare al termine quello che è stato già iniziato in questi anni? Diciamo che il discorso della continuità amministrativa è un discorso che calza bene. Per chi ha operato bene, noi pensiamo di aver operato bene, non solo nell'ordinario, ma nello straordinario, con le alluvioni, con gli incendi, con l'emergenza idrica dell'anno scorso, con la pandemia che ha bloccato ogni attività amministrativa, non solo politica, ma anche proprio gestionale. Io credo che nell'ordinario però abbiamo fatto davvero tanto. E' impensabile che un'amministrazione comunale possa essere considerata vecchia, vetusta o altre motivazioni di questo tipo, dicendo che non avete fatto questo, non avete fatto quell'altro, quando in realtà la prossima amministrazione comunale, sia che sarò io o sarà un altro sindaco, si ritroverà a dover fare partire cantieri per quasi 18 milioni di euro. Cioè, un comune come Ciro, che ha le grosse potenzialità dal punto di vista turistico, culturale e anche, diciamo, come dire, di promozione turistica, è impensabile dire che un'amministrazione non si possa ripresentare o non si ripresenti con le credenziali giuste. Io ho detto che i prossimi consiglieri comunali dovranno soltanto prendere atto del frutto di tutto questo lavoro che è stato fatto. Perché poi alla fine la progettualità non si può vedere nei primi cinque anni, la progettualità si vede nei secondi cinque anni. E' lì che la strategia poi deve venire fuori. E noi, come dire, sarebbe brutto e anche antipatico non pensare che, diciamo, i consiglieri comunali che si sono proteggati tutti nel raggiungimento degli obiettivi non vedessero realizzate l'opera per cui hanno lavorato. Bene. Brevemente vogliamo fare un accenno sulla squadra che avete presentato in campo. Allora, la squadra, io ho detto che è stata rinnovata nell'animo e nello spirito e credo che sia la formula giusta per definire una squadra che abbiamo costruito in questi anni. Perché con l'allontanamento di qualche consigliere comunale, insomma, io lo dico, l'ex presidente del Consiglio Comunale è il mio avversario attuale, io credo che abbiamo costruito una squadra nuova, una squadra fatta di donne, una squadra fatta di professionisti e di gente pensante. Questo lo dico a chiare lettere, lo dico ai cittadini che andranno a votare il prossimo 12 giugno. E' una squadra fatta di persone, non solo per bene, ma di persone che stanno nel Paese, realizzano le loro idee nel proprio Paese. E questo è fondamentale perché c'è una squadra, un consigliere comunale, deve essere presente tutti i giorni, anche se non può dedicare tutti i giorni la sua vita alla politica, perché poi nei piccoli comuni succede così, però deve essere presente tutti i giorni, deve capire e sapere le esigenze di un territorio. Non è che il consigliere comunale di vatti alla pesca si può trovare catapultato in una realtà come quella di Ciro, senza conoscere le reali esigenze, i reali problemi che ci sono. Quindi io credo che la squadra sia stata fatta in questa direzione, con questa sintonia, quella di conoscere il territorio, conoscere le problematiche e quindi dedicarsi all'attività. Certo, ci sarà anche un bel dose di esperienza da parte degli uscenti che si sono ricandidati, Scarola in primis, Cataldo Scarola e Giovanna Stasi, l'attuale vice sindaco. Quindi credo che ci sarà un bel amalgama, cioè la squadra è veramente coesa, forte, fatta anche di persone di un certo spessore, diciamo, culturale. Quindi io credo che sarà una bella lotta e una bella, diciamo, campagna elettorale. Che io mi auguro davvero rimanga nella correttezza e nella serietà, come abbiamo dimostrato i primi giorni. Tra un po' inizieranno i comizi elettorali. Quindi credo che ci sia tanto entusiasmo e ci sia la forza morale per dire che noi vogliamo continuare ad amministrare perché ci sono i progetti e le idee che abbiamo portato avanti. Perché, guardate, io lo dico, insomma, ovviamente poi questo messaggio verrà rivolto alla popolazione e credo che sia fondamentale dire che cose, cioè, è impensabile dire che, diciamo, le attività che sono state portate avanti in questi anni debbano essere poi, diciamo, lasciate a un cambio politico che potrebbe, come dire, creare qualche problema. Noi abbiamo voluto dare una direzione al Paese. Con la prosecuzione del progetto iniziato con l'ex sindaco Caruso, noi abbiamo dato un'idea di Paese, come lo vogliamo sviluppare. Noi stiamo proseguendo e quindi sarebbe giusto e doveroso che la cittadinanza continuasse a credere nel percorso che abbiamo iniziato, fatto di legalità, di trasparenza, di serietà e di presenza sul territorio tutti i giorni, come ho fatto io e come hanno fatto gli altri amministratori.